Buongiorno, vi puoi raccontare veramente quello che è successo ieri sera in questa pasticceria? Nulla verso la chiusura, meno un quarto alle sette, meno dieci è entrato questo ragazzo che di prima vista così non mi era piaciuto immediatamente e nulla, come prima domanda mi ha subito chiesto degli alcolici, gli ho detto che comunque quelli che avevamo erano per l'invista poi si è fermato a bere due birre e una pizzetta, quando ormai è raggiunto il momento della chiusura lui voleva andare fuori a fumare su una sigaretta e io invece gli ho ribadito la chiusura del negozio lui già aveva cominciato ad alterarsi finché è arrivato in cassa, quando gli ho detto il prezzo abbiamo avuto un piccolo diverbio perché secondo lui non era il risultato giusto e niente, poi mi ha lanciato lì i soldi lì è successo tutto un ambaradam per il resto e niente, in pochi secondi ha estratto la pistola e niente dopo io purtroppo però sono andata in confusione, in panico e non ho capito bene cosa mi ha detto per fortuna in negozio qui avevo dei clienti, tra cui un carabiniere, era in borghese fuori servizio e niente, l'hanno fermato lui ha estratto nuovamente la pistola ma sono usciti a bloccarlo e niente, poi lì sono arrivate le pattuglie dei carabinieri e l'hanno portato via Grazie